Elon Musk, un personaggio chiacchierato soprattutto ultimamente visto che ha acquistato una piattaforma che era una roccaforte della sinistra combattente, la sinistra liberal americana e un po' quella di tutto il mondo, Twitter. Ecco, dall'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk una campagna di stampa incredibile si è riversata sopra di lui con una violenza che non posso chiamare inaudita perché viene riservata genericamente a tutti coloro che non sono della parte giusta della barricata e in ciò su Elon Musk non c'è stata evidentemente alcun tipo di eccezione. Ecco, un qualcosa di simile ma non importata perché nella sua vita è probabilmente imparagonabile ciò che sta subendo, nel senso dal punto di vista della stampa ci mancherebbe in questo periodo è avvenuto forse nel 2008. Nel 2008 Elon Musk si trovava con le sue aziende, che sono anche le sue attuali aziende e in particolar modo concentriamoci su due, Tesla e SpaceX, al centro di una bufera incredibile. Nel 2008 SpaceX faticava ancora a riuscire a mandare in orbita i suoi razzi e Tesla sembrava sul tracollo finanziario. Entrambi le aziende hanno rischiato di chiudere i battenti, sono riuscite a salvarle Elon Musk e una squadra di investitori proprio all'ultimo minuto. Alla vigilia di Natale del 2008 ci fu questo incredibile salvataggio di cui magari accenneremo o racconteremo dopo. In quel periodo i giornali sparavano anche loro a zero su Elon Musk nel tentativo di abbattere lui e tutte le sue aziende, ma non ci riuscirono e infatti nel 2023 abbiamo ancora un ottimo Elon Musk in forma a gestire queste aziende. Ora vorrei partire da una cosa, il personaggio è assolutamente incredibile e quello che ho messo in copertina, secondo te sono pazzo, non è una frase che mi sono inventato, non è una frase che ho cercato di attribuire al genio che viene normalmente considerato anche pazzo, questo in generale e forse ancora più nel caso di Elon Musk per le sue stranezze. Tutti i personaggi geniali hanno dei tratti in comune e mi riferisco qua in particolare ai personaggi geniali del mondo dell'imprenditoria, ma in realtà se andassimo a prendere tutti coloro che consideriamo dei geni, ecco tutti questi hanno delle stranezze. Pensate a Steve Jobs che forse è uno dei pochissimi che si possono effettivamente paragonare a Elon Musk, voi dite ma di imprenditori incredibili ce ne sono stati tanti? Certo, è vero, sì ce ne sono stati tanti, però qui non parliamo solo di questo, cioè non parliamo di Henry Ford degli anni rispettivamente 80 e 2000, Steve Jobs e Musk, non parliamo di gente che ha preso delle idee e le ha trasformate in aziende e queste aziende sono diventate aziende planetarie di immenso successo, non possiamo metterli nella stessa categoria di coloro che hanno fondato Google, Microsoft, Ford, IBM e chi più ne ha più ne metta, insomma. Questo è un campionato diverso, quello di Musk e di Steve Jobs è tutta un'altra partita, una roba completamente differente che ha portato questi personaggi non solo a realizzare aziende interplanetarie, ma a toccare, nel caso di Musk, letteralmente interplanetarie. E se vogliamo un po' anche nel caso di Apple, visto che hanno creato una dimensione che prima non c'era, ok? Se vogliamo definire quella un pianeta alternativo, non è sbagliato parlare di interplanetarietà. La cosa incredibile è che questi signori hanno rivoluzionato diverse industrie nel corso della loro carriera, ok? Se Jobs certamente ha fondato Apple e ha rivoluzionato il mondo del personal computer, altrettanto ha fatto, superficialmente si potrebbe dire, col mondo dei telefoni cellulari, ma a ben vedere lo ha fatto nell'industria musicale, perché iTunes è stata una rivoluzione dell'industria musicale prima ancora che dell'informatica e oltretutto lo ha fatto anche con altre aziende. Pensate alla Pixar, ok? Steve Jobs è stato praticamente l'unico o uno dei pochi insieme a Musk che mentre rappresentava prodotti come l'iPad, che a di lì a pochi mesi dalla presentazione avrebbero venduto più della lavatrice, perché di questo si tratta, con l'altra mano presentava insieme alla Pixar dei film di animazione rivoluzionari. La Pixar, per chi non lo sapesse, e tutti sanno e si ricordano della lampada dell'Artemide, credo che sia il modello, che se ne va in giro zompettando, schiacciando la i di Pixar. Ecco, la Pixar è un'azienda che non è stata fondata, credo, ma acquisita al suo inizio però da Steve Jobs e che ha realizzato il primo film di animazione in computer grafica della storia che si chiama Toy Story. Il Toy Story originale è stato realizzato sotto la guida di Steve Jobs. Ecco, quindi stiamo parlando di personaggi che hanno toccato diversi ambiti e diverse industrie, rivoluzionandole praticamente tutte. Non tutto quello che hanno fatto è stato di successo di nessuna di queste due persone. Non hanno certamente avuto solo idee geniali. Pensate un po' che i computer che io ho di fronte, e ne ho quattro, che si chiamano Macintosh, che è una varietà di mela, Steve Jobs gli avrebbe voluti chiamare Bicycle, cioè questo computer doveva chiamarsi Bicycle, perché nella sua testa era come una bicicletta per il cervello, per tenerlo in allenamento. Quale idea più cretina? Ecco, Elon Musk diciamo che da un certo punto di vista è un personaggio paragonabile forse soltanto a Steve Jobs, ecco, di cui un giorno parleremo. Ma non è questo il giorno. Elon Musk ha fatto altrettanto e forse di più, in realtà, rivoluzionando completamente l'industria aerospaziale, per quel che riguarda viaggi spaziali intesi come viaggi commerciali e anche viaggi per agenzie governative. E in questo io cito solo una cosa. I soggetti che hanno inviato uomini nello spazio, che hanno inviato progetti di voli spaziali sono questi. Stati Uniti, Russia, Cina, Elon Musk. Ok? Tanto per dire. Quindi parliamo di stati, nazioni e un unico privato che si chiama SpaceX. Quindi insomma questo è il tipo di risultato. Al contempo ha rivoluzionato il mondo dell'automotive perché è indubbio. Comunque la si pensi sulle automobili elettriche. Io sono piuttosto critico, ma Tesla, sì c'è anche l'Europa ovviamente, ma Tesla non è soltanto diciamo un produttore di automobili elettriche. Innanzitutto ha una storia molto particolare e nessuno avrebbe potuto scommettere un centesimo su quell'azienda. Ma in secondo luogo ha cambiato effettivamente il paradigma nel mondo dell'automobile e dell'automotive. E poi tanti si scordano che Elon Musk prima di fare tutto questo fu anche uno dei fondatori di PayPal. Mettiamola così adesso poi la storia ve la spiegherò tra un attimo. Vedrete. Però era doverosa la premessa. Ecco e soprattutto volevo anche dire che è interessante l'astiolodio e lo sfogo popolare diciamo di quella parte di popolazione che non riesce a scrivere esattamente un concetto in italiano comprensibile e corretto che sfoga la sua frustrazione che è per pienamente comprensibile su personaggi come Elon Musk e Bill Gates. Non so perché Steve Jobs non viene preso tanto di mira evidentemente perché è morto e quindi considerato innocuo. Ma invece questi sono i destinatari dei più grandi insomma deliri lisergici della gente insomma che non sa come sfogarsi se non così. Dicevo comunque che l'idea del secondo te sono pazzo è esattamente la domanda che Elon Musk fece ad un giornalista che stava scrivendo la sua biografia e al tavolo del ristorante mentre Elon Musk insomma stava chiacchierando con questo giornalista perdendosi ogni tanto nei meandri della sua mente perché un personaggio che si distrae facilmente o meglio si distrae inizia a pensare alle sue cose e si aliena a un certo punto guarda il giornalista e dice ma secondo te sono pazzo ma non gli dà neanche il tempo di rispondere in realtà si stava già alzando mentre gli chiedeva secondo te sono pazzo e si è girato e se n'è andato ecco questo è stato uno dei primi incontri che hanno poi permesso di scrivere una delle biografie tra l'altro più di successo e forse anche l'unica che ci sia al momento in commercio su Elon Musk di Ashley Vance che è appunto questo giornalista ma è un personaggio così va preso in questa maniera vorrei partire in realtà dall'inizio per cercare di capire di che cosa stiamo parlando cioè da dove arriva Elon Musk innanzitutto non è americano è sudafricano è nato in sudafrica nel 1971 da una famiglia un po' particolare ok il padre è un ingegnere un ingegnere elettronico se non sbaglio ecco un personaggio anche lui a suo modo interessante non ha avuto un'infanzia particolarmente felice il signor Musk soprattutto quando dopo il divorzio di suo padre e sua madre è andato a vivere con il padre insieme al fratello il fratello di Elon Musk è un altro personaggio in realtà molto interessante ed è poco noto ma è anche lui un imprenditore Kimball Musk ed è soprattutto un partner in crime diciamo così di Elon Musk in praticamente ogni sua creatura ogni sua azienda ecco in realtà quello su cui mi vorrei concentrare è la famiglia della madre la madre qualcuno potrebbe anche averla vista recentemente perché ha scritto un libro quindi questo libro è stato presentato in pompa magna in programmi televisivi in radio un po' dappertutto la madre si chiama Mai non so esattamente come si pronunci non vorrei sbagliarmi ed è una modella cioè ancora oggi che ha 75 anni è una modella della terza età mettiamola così ma in realtà lo è sempre stata e proviene da una famiglia particolarmente interessante perché il nonno di Musk quindi il padre della madre era un personaggio da film cioè su il nonno di Musk dovrebbero farci un film ancora prima che farne uno su Elon Musk ok perché perché il nonno di Musk era un canadese ok anche la madre di Musk è nata in Canada un canadese che nella prima metà del novecento che cosa ha detto ha detto il Canada sta diventando un paese troppo poco liberale che che entra troppo di prepotenza nelle libertà individuali me ne devo assolutamente andare e decide di andare in Sudafrica semplicemente perché il Sudafrica era un paese assolutamente esotico di cui sapeva pochissimo e secondo lui gli permetteva ed effettivamente era così di scorrazzare con il suo aeroplano e siamo negli anni 40 50 attraverso il paese alla ricerca di presunte città perdute o altre cose nascoste templi e avventure varie in effetti il nonno di Musk il padre della madre è un altro personaggio incredibile che aveva un aeroplano ha imparato a pilotarlo da solo tra l'altro la cosa che gli ha dato più fastidio è che il Canada mi sembra che a partire dalla metà degli anni 50 gli imponeva di avere un brevetto per poter volare e lui si rifiutava di farlo dice ho imparato a volare da solo e io volo se questo paese mi impone di dover fare un pezzo di carta per pilotare questo aereo io me ne vado si racconta comunque che lui caricasse i suoi cinque figli finché erano piccoli ovviamente su questo aeroplano lui la moglie i figli tra cui c'era la mamma di Elon Musk e se ne andavano in giro per il Canada per fare viaggi incredibili a un certo punto decide che il Canada è diventato un paese troppo liberticida prende baracca e burattini vende tutto quello che ha e si trasferisce in Sudafrica smonta l'aeroplano in mille pezzi lo mette dentro delle casse di legno e lo spedisce anche quello in Sudafrica a Pretoria dove andranno a vivere qui rimonta l'aereo e inizia a fare delle cose incredibili cioè questo con la moglie ha preso questo aeroplano innanzitutto ogni tanto prendevano questo aereo andavano in giro per il Sudafrica alla ricerca di questa fantomatica città perduta nascosta chissà dove in Sudafrica e con questo aereo giravano poi scendevano dall'aereo andavano avevano un camion di famiglia quando viaggiavano con i figli per il Sudafrica alla ricerca di queste cose avventurose ma questo è niente perché con il loro aereo degli anni 50 di questo parliamo che cosa facevano? prendevano questo aereo lui la moglie facevano viaggi da 50 60 70 mila chilometri cioè da Sudafrica sono andati in Australia in volo che è una cosa che detta così diciamo a qualcuno che non ha contezza di quello che sto dicendo può sembrare vabbè anch'io prendo l'aereo e da Sydney vado a Johannesburg ma grazie tante però non stiamo parlando di questo stiamo parlando di un aereo monomotore degli anni 50 grosso come un'automobile la vostra automobile con le ali pensatela così che dal Sudafrica prende e vola fino in Australia ok se non vi impressiona questo vi darò un'altra rotta che hanno fatto che è magari più consona all'Atlante che conoscete meglio dal Sudafrica partono decollano e volano in Scozia ok stiamo parlando di questa gente qui che fa questo tipo di voli bene da qui nasce la mamma o meglio quando erano in Sudafrica era già nata di Elon Musk che sposa poi questo ingegnere elettronico da cui poi nasce Elon Musk nel 71 e il nonno era matto come un cavallo e Elon Musk è matto come un cavallo perché secondo te sono pazzo la risposta in realtà è sì la risposta è senza dubbio assolutamente inequivocabilmente sì sei pazzo ma ci piace così alla fine il nonno morirà all'età di 75 anni o giù di lì con l'aeroplano perché non vede un cavo tra due pali e facendo delle prove dei test di atterraggio eccetera su e giù su e giù con il carrello si prende questo cavo insomma aggancia questo cavo l'aereo inizia a girare attorno a questo cavo e lui si spezza il collo poveretto e ci lascia le penne bene questo è diciamo l'eredità genetica di Elon Musk tanto per capirci il padre ingegnere sembra essere tutto sommato comunque una persona interessante anche di successo a suo modo però un tizio un po' strano in realtà ne sappiamo molto poco perché la famiglia tutta moglie ex moglie compresa si rifiuta di parlare del padre di Elon Musk e Elon Musk stesso non ne parla però si capisce che la convivenza è stata abbastanza difficile e che gli ha causato anche evidentemente dei traumi comunque Elon Musk è un personaggio anche lui diciamo che inizialmente nella sua vita non sembra avere le caratteristiche che poi tutti gli attribuiscono quindi una certa capacità e attitudine alla leadership una certa capacità anche lì attitudine al rischio sembra non avere nulla di ciò anzi è un ragazzetto bullizzato ma malamente bullizzato cioè nel senso che a momenti ci lascia le penne perché viene massacrato di botte dai compagni di classe a un certo punto gli danno talmente tante saraccate che il giovane Elon Musk cade dalle scale si fracassa tutte le ossa e si rompe pure la testa e finisce diciamo svenuto perde conoscenza lo porta in ospedale e pensate che anni dopo ammetterà che per le botte che ha preso si è fatto anche operare al naso per correggere dei problemi insomma che aveva avuto in seguito proprio alle mazzate che ahimè Elon Musk aveva preso durante le sue fasi insomma adolescenziali quando era un bullizzato da tutti quanti non particolarmente brillante a scuola non particolarmente interessato soprattutto annoiato da quello che doveva studiare certo all'età di 13 14 anni quando era ancora in Sudafrica sì nell'84 nell'84 qualcuno inizia a parlare di lui perché perché progetta un videogioco che è una sorta di Space Invaders un po' più rustico diciamo ma efficace con un computer che si era fatto comprare dal padre assillandolo appena visto il computer per la prima volta in un negozio di elettronica di Pretoria ha capito che cos'era il computer si è reso conto che era un'invenzione e una macchina straordinaria e assilla il padre per farselo comprare ok in tre giorni studia il basic che da manuale dello stesso computer in realtà doveva essere necessario sei mesi di formazione e quello che succede insomma è che impara a programmare Elon Musk poi però crescendo finito diciamo le studi superiori deve decidere che cosa fare della sua esistenza non che lo sappia bene ma decide di trasferirsi in Canada perché la madre era canadese il nonno era canadese e quindi lui organizza questo trasferimento in Canada da uno zio che doveva ospitarlo poi arriva in Canada lui prende l'aereo senza pensare a niente arriva in Canada organizzazione zero in realtà questo zio si era trasferito non abitava più lì non l'aveva neanche contattato prima ma né lui né la madre insomma niente si trova in Canada e non sa cosa fare l'unica cosa però interessante è che lui ovviamente non ha il passaporto canadese però ha quello sudafricano ma siccome è discendente di canadesi c'è una modalità per poter ottenere la cittadinanza canadese anche per lui riesce a chiamare dei suoi lontani parenti si fa ospitare un po' qui e un po' là che cosa succede alla fine fa lavori incredibili tra i vari lavori va a lavorare in una segheria dove viene pagato praticamente lui va a cercare lavoro in un'agenzia facciamo di lavoro interinale o equivalente e chiede qual è il lavoro più pagato bene il lavoro più pagato è per mi sembra qualcosa come 18 dollari all'ora un lavoro pericolosissimo praticamente lui doveva infilarsi all'interno di alcuni tubi cunicoli dentro macchine che lavoravano in legno ok per liberare dai truccioli queste macchine ma una volta entrato non poteva più tornare indietro e aveva pochissimi minuti per rimanere lì dentro perché altrimenti la temperatura sarebbe diventata talmente elevata che l'avrebbe ucciso ok bene tanta gente andava a fare questo lavoro lui dice di solito le persone che arrivavano il lunedì ok al mercoledì non c'erano già più Elon Musk però si è fatto un po' di tempo in questo lavoro pulendo questi macchinari entrandoci dentro praticamente e uscendo dall'altra parte si iscrive poi all'università e lì poi c'è il momento diciamo pivotale se vogliamo chiamarla così perché riesce a trasferirsi dal Canada alla Pennsylvania dove poi si laurea in non una disciplina ma in due infatti Elon Musk è laureato sia in fisica è un fisico sia in economia e prende queste due lauree contemporaneamente ok insieme si laurea in fisica e in economia ma di fatto di fatto di fatto non ha idea di che cosa farsene non ha minimamente idea di che cosa deve realizzare e riesce a comprarsi una scassatissima BMW 320 degli anni 80 ok che utilizza con il fratello per farsi i giri degli Stati Uniti d'America ok diventa sostanzialmente un americano in quel momento quando si laurea inizia a vivere negli Stati Uniti come da tradizione li gira da una parte all'altra con una macchina scassata e con il fratello si fa questi grossi viaggi in cui cerca di capire che cosa deve combinare non ne hanno minimamente idea sparano un sacco di cose se ne tornano da questo viaggio con un'unica idea cioè fare una sorta di portale un forum l'idea è praticamente quella di un forum per i medici per i dottori un'idea assolutamente inutile capiscono però che cosa che ormai siamo sulla fine degli anni 90 metà degli anni 90 capiscono che internet il web è ciò che potrebbe essere per loro diciamo un punto di svolta e su questo hanno un'intuizione come quella che hanno avuto tanti altri in quel periodo Jack Ma tanto per dire di Alibaba cinese ok negli stessi anni si rende conto che il web sarà la svolta ok così come nello stesso periodo Jeff Bezos si rende conto che il web sarà la svolta e appena appena poco dopo Larry Page con Google capisce che il web sarà la prossima rivoluzione loro si rendono conto di questo e di fatto l'unica cosa che gli viene in mente è questa roba qui insomma di fare questa sorta di forum per i medici ecco in realtà pensando e riflettendo qualcosa gli viene in mente al buon Jack Ma mentre stava lavorando come impiegato in una impresa perché l'altra cosa incredibile è che questi signori anche altra cosa in comune con Steve Jobs sia Elon Musk che è suo fratello Kimball che cosa fanno cioè loro hanno idea che dovranno avere successo in qualche modo facendo delle cose di loro iniziativa e iniziano ad aprire le pagine gialle insomma l'elenco telefonico cercando i nomi delle persone secondo loro di successo imprenditori altri professionisti gente insomma di ogni tipo e gli telefonano chiedendogli appuntamento questa cosa la racconta Steve Jobs in un'intervista abbastanza famosa Steve Jobs dice di aver contattato Bill Hewlett Bill Hewlett da cui il nome nasce la Hewlett Packard no? dice Steve Jobs è un po' più vecchio di Elon Musk ha 25 anni di più quindi al tempo Bill Hewlett era in vita in attività e dice allora ai tempi il numero di Bill Hewlett e Steve Jobs viveva e cresciuto in California nell'area della Silicon Valley era sull'elenco telefonico io ho alzato il telefono a mi sembra 15 anni 16 anni una roba del genere Steve Jobs chiama Bill Hewlett che gli risponde e Jobs si chiede ma insomma sono questo ragazzo qua ho fatto questo progetto elettronico per la scuola vorrei avere un lavoro ah no gli voleva vorrei avere ti chiamo perché vorrei avere dei pezzi per costruire i componenti elettronici per costruire un oscillatore ok che è diciamo il prodotto da cui nasce la Hewlett Packard no ok e l'altro si mette a ridere Bill Hewlett riceve questa telefonata da un ragazzino che gli chiede il condensatore il coso si mette a ridere non glieli dà i componenti ma gli offre un lavoro in HP lì dove costruiscono gli oscillatori ok queste cose allora evidentemente si potevano fare ma in un certo senso negli Stati Uniti queste cose non sono viste come le possiamo concepire noi ok anzi queste stesse persone dopo che sono diventate ciò che sono diventate erano in un certo senso e ovviamente compatibilmente con le nuove regole di comunicazione che non sono quelle di una volta con la nuova esposizione che non è quella di una volta ma a disposizione di quelli che hanno bisogno di qualcosa o hanno in mente qualcosa ok bene Elon Musk e suo fratello fanno esattamente la stessa cosa alzano il telefono e chiamano gente a caso che gli risponde pure la maggior parte ovviamente gli dice di no ma qualcuno che gli risponde invece si vi do un appuntamento lo trovano trovano un imprenditore che gli dà un appuntamento però il momento libero che aveva il primo momento libero era dopo sei mesi ok peraltro anche in un altro stato quindi abbastanza lontano e questi due sei mesi dopo allora concordata si fanno trovare vanno a pranzo con questo tizio che poi gli offre un lavoro e in questo lavoro Elon Musk si rende conto che arrivavano delle persone un po' strane dell'equivalente delle pagine gialle italiane tanto per capirci che cercavano di vendere alle aziende il posizionamento su questo nuovo sito web che era la versione digitale delle pagine gialle ok però si rende anche conto che questi tizi non hanno minimamente idea di che cosa stanno vendendo perché sono i venditori delle pagine gialle che vendono una cosa per il web ma siamo nel 98 97 98 giù di lì non sanno neanche cosa sia il web come possono vendere qualcosa che non conoscono bene allora Elon Musk propone al fratello di realizzare loro un sistema di pagine gialle online e di venderlo alle aziende che ne avessero avuto necessità perché almeno noi sappiamo di che cosa stiamo parlando e vedrai che faremo un sacco di soldi così nasce un'azienda che nessuno conosce ovviamente ma che è l'inizio della fortuna di Elon Musk si fanno prestare 28 mila dollari dal padre ecco e qui vorrei dire una cosa il padre di Elon Musk non era certamente un povero in canna ecco non era certamente uno straccione era credo anche abbastanza benestante di famiglia ma purtroppo girano alcune storielle che sono in realtà delle palle colossali per cui il padre in realtà sarebbe stato un multimiliardario Elon Musk non ha fatto nulla ha fatto solo perché aveva i soldi del padre questi sono in realtà sono le classiche scuse dei pezzenti sapete qualcuno diceva non è una colpa nascere poveri però morire poveri lo è ora è un detto un po' estremo diciamo così però qual è il punto il punto è che se noi raccontiamo che Elon Musk in realtà era già miliardario vabbè allora tutti con i soldi sappiamo fare le cose in realtà non è vero neanche questo la maggior parte della gente che nasce con i soldi non sa che farsene non realizza nulla li spende e basta ok certo avere delle idee senza i soldi in un posto come questo rende impossibile qualsiasi diciamo tipo di sbocco e con questo intendo l'Italia e forse in un certo senso l'Europa in altri paesi non è così in ogni caso i fratelli Musk si fanno prestare questi banali 30 mila dollari neanche che certo 20 anni fa 25 anni fa erano qualcosa più che adesso ma che di fatto finiscono subito li utilizzano per fondare e mandare avanti un'azienda che si chiama Zip2 Zip2 ok che in realtà in americani in inglese americano slang significa muoversi velocemente da una parte all'altra ok bene questa azienda nasce proprio con l'obiettivo di realizzare le pagine gialle sul web ci mette veramente tanto e non decolla mai in realtà prendono un sacco di porte in faccia assumono gente da ogni dove vendendogli l'idea di lavorare per una grande azienda in realtà tra i primi che assumono è un povero coreano che fa lo sviluppatore il quale non aveva idea di che in che razza di ginepraio si stava infilando alla fine non sanno cioè non riescono manco a pagargli uno stipendio decente gli danno la possibilità di alloggiare con loro questi due vivono i due fratelli musk vivono in un appartamento senza mobili con due materassi buttati per terra ci ospitano pure questo coreano che un giorno prende la famosa bmw scassata di qui sopra per andare in ufficio e a metà del tragetto una ruota si stacca direttamente dal mozzo della macchina e lascia sull'asfalto un solco dicono che è rimasto lì per anni anni e anni a testimonianza in peritura della loro povertà ok nel frattempo dalle aziende che vanno dai negozi che a cui cercano di vendere il posizionamento su questo sito gli ridono tutti quanti in faccia ok e alla fine hanno l'idea bene o male di riuscire a cambiare un po' il modello di business anziché rivolgersi ai negozi quindi ai clienti finali diciamo così si rivolgono ai giornali cioè cercano di vendere un software ai giornali per implementare sui loro siti questi sistemi di pagine gialle l'idea in realtà di Musk è in anticipo dei tempi di almeno 10-12 anni perché quello che hanno realizzato è Google Maps ok perché tutto questo sistema era integrato con una mappa interattiva che per l'epoca era qualcosa di assolutamente complesso da realizzare e questa mappa era una mappa che dal computer poteva essere navigata si potevano impostare i percorsi chiudava le svolte che dovevi fare il tempo con cui ci potevi arrivare e i negozi e le varie attività che c'erano su questo percorso ok in realtà questa azienda è fondamentalmente un'aziendina che sta in piedi a malapena e Elon Musk non riesce neanche a ottenere e tenersi il ruolo di amministratore delegato perché a un certo punto qualcuno ci investe addirittura 3 milioni di dollari in questa idea ma ci mette i soldi questo fondo e impone un amministratore delegato che vuole lui che ovviamente non è Elon Musk perché giudicato un ragazzetto senza esperienza che non ha idea di cosa sta facendo la situazione viene salvata dal fatto che a un certo punto dal nulla dal nulla mentre le cose stavano andando a rotoli arriva un'altra azienda che si chiama compac e che offre dal nulla 307 milioni di dollari per comprare Zip2 beh 307 milioni mica male 307 milioni affare fatto venduta la società Musk si mette in tasca 22 milioni di dollari il fratello Kimball si mette in tasca 15 milioni di dollari puliti puliti 22 milioni di dollari sarà stato il 1999 quindi Elon Musk aveva 27 28 anni e 22 milioni di dollari in tasca che cosa avreste fatto voi molti di noi diciamo quelli magari un po' più attenti anziché spenderseli avrebbero investito 22 milioni di dollari in qualche modo comprando case azioni investendoli in qualche fondo va a sapere cosa e probabilmente sarebbero stati a posto per l'esistenza questa forse è una fetta piccola la gran parte se li sarebbe distrutti nell'arco di pochi anni o avrebbe aspettato che diciamo progressivamente finiscono ora 22 milioni di dollari sono tanti soldi anche oggi allora erano anche un pochetto di più ok Elon Musk in realtà un po' se li sputtana possiamo dirlo ma in realtà li utilizza per creare qualcos'altro si compra un appartamento ok e un aeroplanino ma insomma un aereo privato è una McLaren una Mercedes McLaren credo una McLaren una macchina la macchina più veloce del mondo in quel momento un milione va così va nella macchina è il suo sfizio Elon Musk a questo punto ha iniziato a far parlare abbastanza di sé tant'è che la consegna di questa McLaren la trovate anche online su YouTube perché è tutto filmato dai giornalisti che si trovavano in quel momento lì ok la cosa reale però è che Elon Musk si tiene una parte piccolissima di soldi per queste cose ok quindi si compra la macchina si compra un appartamento e fondamentalmente basta tutto il resto e quando intendo tutto il resto intendo tutti gli altri soldi li usa per scommetterli su un'azienda il cui scopo e la cui attività è particolarmente folle quindi immaginatevi di fare 20 milioni di euro ok togliervi uno sfizio comprarvi la casa togliervi uno sfizio che può essere la macchina può essere qualcos'altro uno sfizio particolarmente costoso e poi dite che me ne faccio con gli altri 20 milioni che mi rimangono da 22 che avevo preso bah bah siccome mi è andata bene una volta giocando al gratta e vinci perché di fatto è quello che è successo facciamo che adesso me li gioco tutti tutti in una lotteria però dove le probabilità di vincita sono ancora più basse delle precedenti perché se l'idea delle pagine gialle tutto sommato era semplice e comprensibile l'azienda che fonda nel 1999 ed è dopo la vendita di Zip2 ha un nome che voi non potete conoscere si chiama x x la lettera x punto com non l'avete mai sentita x punto com però adesso inizio a parlarvene quindi forse qualche campanello vi si accenderà questa scommessa folle questa follia completamente priva di qualsiasi senso pudore e apparentemente intelligenza ok in un momento in cui nel 1999 la gente anche negli Stati Uniti aveva paura di usare internet per ordinare un libro e lo sappiamo bene perché il signor Jeff Bezos si stava scontrando proprio con questo problema proprio in quel momento Amazon ecco cercava di vendere non a caso ho detto libri online vi ricordate che una volta si pensava Amazon erano i libri un negozio online di libri certo perché Amazon ha iniziato dai libri considerando quella la cosa più banale stupida e semplice da vendere ok però il problema è che dovevi convincere gente che non sapeva cosa fosse internet nel 1999 a dare i dati della propria carta di credito per spendere 15 dollari 10 dollari e comprare un libro ed era difficile quasi impossibile in questo contesto Elon Musk prende tutti i soldi che ha guadagnato a parte gli sfizi che si è tolto e apre un'azienda che si chiama x.com x.com che è una banca online una banca e non ne sa nulla di banche non ha idea di come funzionano le banche o meglio in realtà lui in una banca ci aveva lavorato e si era reso conto che i banchieri a suo dire sono ignoranti e stupidi ok dice i banchieri sono una delle categorie più composte da imbecilli quasi più di tutte le altre non sanno cosa stanno facendo si copiano sono come le le mucche ok se una inizia a correre da una parte tutti i banchieri corrono da una parte ma non sanno il perché dice questo Elon Musk dei banchieri perché a un certo punto lui lavorando in una banca trova un modo per fare dell'arbitraggio nella differenza di prezzo tra i titoli di debito dei paesi del Sud America e alcune particolari obbligazioni che erano garantite dal governo degli Stati Uniti in un programma di riduzione del debito degli Stati dell'America del Sud non entro nei tecnicismi ma di fatto trova un modo per fare una compravendita e di fatto speculare sulla differenza di prezzo di queste due cose in maniera super sicura va dal banchiere proprietario della banca in cui lavorava e gli spiega di aver trovato questo bug cioè questa cosa di cui nessuno si era accorto che avrebbe potuto permettere alla banca di fare miliardi super sicuri perché garantiti dagli Stati Uniti cioè dal governo di Washington non da quello dei paesi del Sud mentre Elon Musk cerca di spiegare questo a questo banchiere il banchiere inizia a parlargli sopra dicendo che loro avevano già non voleva niente a che fare con i paesi del Sud America perché l'avevano già presa in quel posto una volta perché erano insolventi perché erano pericolosi eccetera e lui gli stava dicendo cretino non c'entrano niente non c'entra niente l'assolvibilità dei paesi del Sud d'America c'entra che questi titoli sono garantiti dal tuo governo dal governo degli stati non l'ha neanche ascoltato e lui si era andato mandandoli tutti quanti a fare in culo quindi con questa esperienza e consapevolezza sull'intelligenza dei banchieri e la loro apparente diciamo stupidità decide di aprire una banca online una cosa folle che più folle non poteva fare ma se possibile peggiorata dal fatto che ci scommette tutti i suoi soldi senza sapere che aprire una banca fondamentalmente è impossibile perché certo gli Stati Uniti sono una terra estremamente liberale dove i vincoli burocratici e le scartoffie praticamente non ci sono confronto a paesi come l'Italia ma una banca è sempre una banca è una banca che se mi seguite quotidianamente ormai spero sappiate a grandi linee come funziona è un particolare tipo di impresa un po' complessa ok che siccome utilizza i soldi dei suoi correntisti per fare delle cose e questi soldi poi sono pure garantiti da un fondo interbancario pubblico ecco prima di poterne aprire una bisogna avere determinate scartoffie e certificazioni e autorizzazioni anche negli Stati Uniti di fatto x.com non riesce ad ottenere nulla di tutto questo il tempo passa peraltro sono in quattro i soci in realtà che inizialmente fanno parte di x.com alcuni di questi se ne vanno anche Elon Musk anche lì ha una battaglia per diventare amministratore delegato ma di fatto alla fine la perde o meglio diventa amministratore delegato ma poi mentre nel frattempo si sposa e mentre è in volo per il viaggio di nozze una congiura del consiglio di amministrazione di x.com fa fuori Elon Musk come amministratore delegato ok quindi lo tradiscono alla fine praticamente lo buttano fuori a calci e in questo è anche qui simile alla storia di Steve Jobs che venne anche lui buttato fuori a calci dalla Apple che aveva fondato però la svolta è nel fatto che a un certo punto c'è un'altra azienda che è concorrente diretta di x.com e che come lei si trova in un guado fangoso per cercare di realizzare una banca online e a un certo punto queste due aziende condividono anche gli uffici nel senso che questa altra azienda affitta subaffitta una stanza nell'ufficio di x.com quest'altra azienda è fondata da altre persone tra le quale c'è un signore che si chiama Peter Thiel che oggi è famosissimo e ha un nome che tutti conoscete perché questa altra azienda concorrente diretta di x.com il progetto di Elon Musk si chiama Paypal Paypal che cerca come x.com di cercare di realizzare questo progetto incredibile alla fine si guardano in faccia quelli di x.com e quelli di Paypal e si dicono ma perché dobbiamo farci la guerra perché la cosa in cui ci siamo ficcati è un bagno di sangue non ne usciremo mai vivi è inutile che ci massacriamo a vicenda fondiamo le due società e questo è ciò che avviene x e Paypal vengono fuse all'interno di un'unica entità che prende il nome di x.com quindi il nome Paypal inizialmente viene cassato ok però poi dopo la congiura che fa fuori Elon Musk Peter Thiel prende il timone dell'azienda e così ottiene anche riesce a farla rinominare in Paypal si prende anche questa rivincita in realtà Paypal meriterebbe una puntata a sé perché Paypal che nel 2000 appunto prende di nuovo questa denominazione ha una storia incredibile i personaggi che l'hanno fondata oltre a Elon Musk sono tutti con delle carriere incredibili e gli stessi dipendenti cioè la selezione di dipendenti che riescono a mettere in piedi porta lì dei talenti incredibili tant'è che nella Silicon Valley ma un po' è noto dappertutto la cricca di persone che ha fatto parte di quella Paypal cioè quella iniziale ha un nome e tutti la conoscono come Paypal mafia Paypal mafia ma non nel senso cioè non è un termine dispregiativo Paypal mafia non è per dire che sono mafiosi che chissà cosa la Paypal mafia è quell'insieme di persone tra cui Elon Musk Peter Thiel e i fondatori di Youtube i fondatori di Youtube avevano prima lavorato per Paypal almeno uno dei due aveva lavorato per Paypal ok la Paypal mafia è la classe dirigente e sono i padroni delle più grosse aziende della Silicon Valley oggi ok perché non perché c'era questa mafia nepotistica per cui ah è il mio picciotto no ma perché effettivamente erano le migliori menti a disposizione allora per questo dico che Paypal mafia non è un termine dispregiativo anzi è un termine assolutamente positivo indica una classe intera di talenti che è tutta passata per Paypal e che tutta quanta ha realizzato cose straordinarie che tutti che tutti conoscete la cosa la svolta la reale svolta di Elon Musk arriva proprio con Paypal proprio nel momento in cui Paypal anche lì nel tentativo di riuscire a prosperare cosa non facile perché comunque siamo nel 2000 la situazione è sì nel tempo migliora rispetto alla paura di usare una carta di credito per comprare un libro ma non è semplice attrarre clienti ce la faranno poi alla fine ma la vera svolta arriva grazie ad Ebay Ebay il sito di compravendita tra privati ovviamente ha la necessità di trovare un sistema di pagamento che sia congeniale al tipo di servizio che offrono Ebay a un certo punto anche lì quasi dal nulla farà una proposta d'acquisto ai proprietari di Paypal perché vuole comprare Paypal e Ebay compra Paypal per una cifra che è di un miliardo e mezzo di dollari un miliardo e mezzo di dollari perché ha bisogno di Paypal ovviamente per integrarlo nei suoi servizi ed è ed è un ottimo acquisto per Ebay Paypal a Musk con questa seconda exit si chiamano così quando una azienda viene comprata da un'altra azienda nel gergo diciamo così degli startup pari si tratta di si chiama exit significa io esco ok incasso che spesso è l'obiettivo finale delle startup perché è un mondo malato è diventato un mondo malato quello di questo settore dove si costruiscono delle cose che funzionano a metà delle cose che non si sa bene come dovranno fare a guadagnare soldi eccetera ma non importa perché l'obiettivo è ingolosire qualche pesce grosso che mette sul tavolo un sacco di soldi e ti compra la mezza ciofeca che poi grazie alla sua potenza potrà trasformare da brutto natroccolo in grande cigno oppure che finirà e ti dà però un sacco di soldi per comprartelo ok quindi hai varie aziende alcune in realtà già di successo prima ma che semplicemente fanno fatica a monetizzare o via discorrendo e vengono comprati da questi colossi nel caso di paypal la exit finisce in maniera spettacolare con una vendita per un miliardo e mezzo di dollari adesso non so se allora è stata una delle più alte ma secondo me sì forse addirittura la più alta comunque al signor Elon Musk personalmente arrivano questa volta 250 milioni di dollari quindi il nostro amico Tomo Tomo cacchio cacchio si è giocato 28 mila dollari del padre e li ha trasformati in 22 milioni più i 15 del fratello se vogliamo vedere e calcolare il ROI del padre di Musk quindi il ritorno sull'investimento ci ha messo 28 mila dollari e i figli si sono portati a casa 37 milioni ok la seconda volta dove si è giocato tutti i 20 milioni i 22 milioni che aveva guadagnato ha decuplicato praticamente quella cifra uscendo con 250 milioni e ora la domanda ovviamente la ripeto e cioè cosa avreste fatto se fosse se fosse se foste stati in Elon Musk guardate che sono passati pochissimi anni due o tre anni in due o tre anni ha decuplicato l'investimento avete 30 anni neanche ne avete 29 e vi siete intascati 250 milioni di dollari ora anche il più pazzo scriteriato colui che vive la vita più sregolata che ci sia che cosa fa almeno dice mi sono giocato il gratta e vinci due volte non lo faccio la terza quanto meno va bene ho fatto 250 milioni con 20 milioni vediamo se sono bravo 230 me li metto in banca e altri 20 milioni me li gioco al gratta e vinci e vediamo se riesco a farne altri 200 bene questo non è il ragionamento di Elon Musk mi dispiace il quale nel frattempo rischia la morte e arriva tanto così da lasciarci le penne perché nel frattempo era riuscito ad andare in viaggio di nozze perché il primo viaggio di nozze appena era atterrato aveva ricevuto la notizia che era stato fatto fuori da amministratore delegato quindi prende un altro aereo torna in America ad affrontare la situazione poi lavora 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 riesce a fare un altro viaggio di nozze e torna negli Stati Uniti alla fine di questo viaggio ma stava male male sempre peggio sempre peggio non sta bene ha la febbre non sta bene la moglie non lo riconosce perché questo è uno che lavora 12-15 ore 20 ore al giorno quando lavorava in Zip2 aveva una poltrona a sacco vicino alla scrivania lui stava lì tutto il giorno e tutta la notte non si lavava mai raccontano di un ufficio che era una latrina una letterale latrina che era una puzza un tanfo fetido in cui non si poteva entrare dormiva vicino alla scrivania e chiedeva ai dipendenti quando arrivavano la mattina di tirargli un calcio per svegliarlo e così andavano le sue giornate ok uno abituato a questi ritmi in realtà non torna da questo viaggio sta male non lavora non lavora alla fine che cosa succede va in ospedale e sbagliano la diagnosi non capiscono che cosa lo curano per un qualcosa che non è alla fine lui aveva la malaria peraltro la malaria nella sua variante più mortifera e più pericolosa che non chiedetemi di dire qual è ma tant'è che è questo ma i medici non lo capiscono non se ne accorgono e quindi non lo curano per questa malaria e anche quando si rendono conto alla fine che è malaria sbagliano il ceppo sbagliano la variante e gli danno una cura sbagliata ok e lui peggiora sempre di più peggiora sempre di più alla fine per caso nell'ospedale in cui era arriva un medico di un altro ospedale che si trova lì per caso che però aveva a che fare ha avuto a che fare più volte con la malaria e lui riesce a riconoscere e a capire il problema gli dice anche che se fosse arrivato un giorno dopo probabilmente qualsiasi cura sarebbe stata inutile e quindi da lì lo riescono a guarire ma per riprendersi Elon Musk ci metterà sei mesi sei mesi in cui fatica anche a lavorare a mantenere i suoi ritmi tant'è che la moglie dice di non riconoscerlo più bene nel frattempo non ve l'ho detto ma mentre lui era stato buttato fuori da Paypal ok e finché ancora non era arrivata l'exit con con ebay ok quindi in quel tempo morto in cui non lavorava per Paypal perché era era uno dei proprietari ma fatto fuori dall'azienda in realtà messo ai margini e mentre non aveva ancora i soldi riprende una sua passione che aveva da bambino cioè far saltare in aria le cose e far esplodere le cose Elon Musk aveva una passione fin da bambino di far esplodere le cose anche e soprattutto nel tentativo di realizzare dei piccoli razzi perché ha da sempre questa passione ora voi dite il più grande appassionato di razzi del mondo che ha avuto successo è Kim Jong-un guardate quanto in realtà è Elon Musk ok lui dice che è fortunato di avere ancora tutte e dieci le dita e non sa come sia possibile ma di fatto lui inizia a capire che c'è un progetto che gli interessa incontra questa Mars Society ok che ha l'obiettivo di viaggiare verso Marte un obiettivo molto teorico una confraternita diciamo così di strani personaggi ma anche insomma molto ricchi che hanno questa idea di mandare l'uomo su Marte Musk li trova molto interessanti gli manda diecimila dollari e si fa invitare ad una loro cena e inizia a pensare a questo progetto di mandare dei topi con dei razzi su Marte prima in orbita poi studiarli poi mandarli su Marte ok i topi su Marte tra l'altro farà ridere un sacco i suoi amici questa roba perché nessuno lo prende sul serio anzi anzi per per prenderlo per il culo i suoi amici gli comprano gli regalano delle forme di formaggio enormi perché gli dicono i topi fornicatori che devono andare su Marte e poi tornare con i topi figli avranno bisogno di un sacco di formaggio lo prendono tutti per il culo ok anche perché l'impresa ha un costo di decine di milioni di dollari ok che lui peraltro in quel momento non ha ma di lì a poco ci sarebbe stata la exit di Paypal e per un po' di tempo insomma lavora questa idea in realtà la questione di Marte non è nuova di Elon Musk anzi da bambino tra fumetti eccetera e cose lui inizia già ad avere questo immaginario del fatto che l'uomo deve abbandonare la terra a un certo punto e andarsene su un altro pianeta cosa di cui tutt'oggi è convinto ma lo vedremo tra un attimo comunque che cosa succede succede che per mandare i razzi nello spazio con dentro i topi prima devi avere i topi ma prima devi avere anche i razzi ora se avere i topi è piuttosto banale non è una cosa particolarmente complessa procurarsi dei topi procurarsi dei razzi è un po' più complicato ok chi è che te li vende nessuno però nel frattempo insomma in realtà molti anni prima era saltata per aria l'unione sovietica e tanti si ricordano delle immagini che ci pervenivano dall'ex unione sovietica dove praticamente si vendeva qualsiasi cosa dagli aeroplani da guerra ai razzi per andare nello spazio bene quindi Elon Musk prende delle persone che riesce in qualche modo ad intortare e ad attrarre nella sua diciamo visione distorta del mondo perché come per Steve Jobs Steve Jobs si diceva che avesse un campo di distorsione della realtà la chiamavano proprio così tutte le persone accanto a lui i suoi dipendenti eccetera la chiamavano reality distortion field ok cioè praticamente questa gente ha tutta una visione sua del mondo che non è condivisa praticamente da nessun altro ok e questi sono dei pazzi presi per il culo non necessariamente presi per il culo ma parlano e la gente non capisce cosa dicono perché hanno proprio delle storture cerebrali all'interno del cranio che non gli consentono di vedere la roba come si presenta a tutti gli altri la stessa cosa vale per Musk che ha una sua personale versione della realtà e della verità e questo lo dicono anche di lui quindi nella sua personale versione della realtà riesce in qualche modo ad intortare e ad attrarre alcune persone che lo aiutano ad andare in Russia a cercare di contrattare con i gerarchi gli ex gerarchi sovietici l'acquisto di razzi in realtà di missili intercontinentali balistici quindi in realtà cose un po' diverse da quelle pensate e progettate per andare nello spazio ma i russi in realtà gli fanno perdere un sacco di tempo ok gli danno appuntamenti in tarda mattinata mangiano bevono vodka alle 11 del mattino gli fanno i canti popolari lo prendono per il culo e alla fine gli fanno solo perdere tempo ok i razzi non glieli vogliono veramente vendere non vogliono dare ad un americano tecnologia sovietica gli fanno dei prezzi assurdi e dopo il terzo viaggio che Elon Musk fa in Russia e siamo qua ancora nel 2000 ecco praticamente se ne va sbattendo la porta a un certo punto lo fanno incazzare si alza se ne va prendono tutti e tre lui e gli altri due che erano con lui un aereo e decollano da Mosca alla volta degli Stati Uniti i due che erano con lui raccontano che erano seduti su due sedili Elon Musk era davanti a loro loro si sono ubriacati in decollo con la vodka dai carrelli delle osse perché dicono quando parti da Mosca soprattutto in una situazione così bisogna sempre brindare per essere felici di essere riusciti ad uscire da questo cazzo di paese anche perché uno dei due quello che lo aiuta uno è un suo amico di infanzia di quelli che sono con lui l'altro è colui che lo aiuta ad andare in Russia che è uno che ci è stato anche arrestato in Russia poco tempo prima ci ha rischiato il culo quindi si ubriacano mentre loro si ubriacano felici del fatto di essere riusciti a scappare ma tutti delusi per l'esito delle trattative Elon Musk è lì col suo computer che digita cose e a un certo punto li risveglia dal torpore e gli dice oh guardate che cosa ho fatto e si presenta con un foglio di calcolo Excel e gli dice guardate i razzi ce li possiamo costruire da soli vedete ho già fatto i calcoli con i prezzi delle varie lavorazioni materiali cosa ci serve eccetera possiamo fare tutto noi questi rimangono sbalorditi tra l'altro ad una frazione del prezzo di ciò che gli era richiesto dai russi ok i russi volevano qualcosa tipo 20 milioni per razzo una roba del genere lui dice con 8 milioni ce lo facciamo noi e questi gli dicono ma che cosa stai dicendo dove l'hai presa cosa ne sai tu eh ho letto dei libri di fatto la risposta è questa i libri che in realtà gli aveva dato uno di questi tre che era in viaggio con lui ma è esattamente la realtà cioè la realtà è sia che effettivamente lui ha letto dei libri perché tutto questo nasce dal fatto che lui abbia letto dei libri ed è anche vero che i conti che aveva fatto erano corretti ok e quindi che cosa fa decide di aprire un'azienda che si chiama SpaceX SpaceX che conoscete benissimo perché è la stessa SpaceX di oggi nel frattempo arriva la exit di Paypal e quindi incassa pure i 220 milioni di dollari prende questi soldi e li mette in SpaceX e SpaceX ha questo obiettivo costruire razzi per andare nello spazio a basso costo ma in realtà l'obiettivo originale che è tuttora l'obiettivo di SpaceX è mandare razzi su Marte o meglio fare viaggi per andare su Marte portandoci anche gli esseri umani non a caso se voi decideste di investire i vostri soldi in azioni di SpaceX non le trovereste non potete comprarle perché SpaceX non è quotata in borsa a differenza per esempio di Tesla il motivo è che Elon Musk non la vuole quotare non la vuole rendere pubblica fino a che l'azienda non avrà effettivamente in vista l'obiettivo di riuscire a portare l'uomo su Marte e di realizzare in ogni caso tecnologia per arrivare a raggiungere Marte perché secondo Musk renderla pubblica prima potrebbe essere addirittura pericoloso per questo obiettivo e da lì nasce SpaceX ok da questa idea e da questa intuizione di Musk che riesce ad attrarre su questa azienda elementi effettivamente straordinarie ok elementi incredibili e alcune delle quali sono ancora oggi all'interno di SpaceX in realtà i 7-8 anni successivi saranno un inferno per Elon Musk che nel frattempo nel frattempo scopre o meglio riscopre di avere un'altra grande passione mettiamola così ok l'altra grande passione di Elon Musk sono le automobili elettriche tanto che l'aneddoto diciamo divertente è che quando era ragazzo credo intorno ai 20 anni o giù di lì viene invitato ad una festa della figlia di quel famoso signore che aveva incontrato rompendogli le palle per telefono quello che gli aveva dato l'appuntamento dopo sei mesi ecco va alla festa di compleanno della figlia però impacciato in realtà diciamo quello che può sembrare è che è impacciato non sa di cosa parlare con questa figlia di questo signore appena la vede cosa gli dice gli dice io ho sempre pensato alle automobili elettriche tu hai mai pensato alle automobili elettriche ma in realtà cioè quella non è l'espressione di un disadattato che non sa cosa dire probabilmente in quel momento gli passava per la testa proprio quello ok ed effettivamente anni dopo dopo che avrà già realizzato SpaceX con l'obiettivo di realizzare razzi a basso costo per andare nello spazio si trova di fronte di un signore che ha aperto un'altra azienda che si chiama Tesla perché Tesla non l'ha fondata Elon Musk lui ci mette i soldi e diventa il principale azionista poi dopo entra in rotta di collisione con l'amministratore delegato e fa ciò che era stato fatto a lui tempo prima se non fosse che in realtà l'amministratore delegato ha 15 anni 20 anni in più no 15 anni in più di lui ok lo fa fuori da azionista di maggioranza da proprietario di Tesla fondamentalmente lo fa fuori e ci si mette al suo posto perché non ne condivideva diciamo le visioni e qua siamo a metà degli anni 2000 2005 giù di lì l'idea di Musk era che nel 2003 sarebbe riuscito a far decollare il Falcon 1 che è il primo progetto di razzo di SpaceX SpaceX è l'anima di Elon Musk non Tesla questo è importante Tesla è un'azienda che sta raggiungendo risultati incredibili in ogni caso ma è pur sempre l'azienda diciamo facile delle due tra virgolette ok è quella dove Elon Musk fondamentalmente è se vogliamo più defilato ok in realtà SpaceX è Elon Musk l'obiettivo era quello di far partire il Falcon 1 entro il 2003 la cosa sarà ovviamente impossibile ok il primo tentativo di lancio viene abortito il razzo fondamentalmente esplode il secondo tentativo di lancio anche lì il razzo va in mille pezzi perché riesce a staccare il primo stadio il primo stadio lo porta ad una quota poi si sgancia un pezzo di razzo interviene il secondo stadio che lo porta nello spazio ma lì c'è un problema il serbatoio del liquido loro non considerano che il liquido consumandosi il liquido all'interno del serbatoio inizia a sbattere da una parte dall'altra destabilizzando il razzo che quindi si rovescia su se stesso e va in mille pezzi e la cosa diventa molto complessa ok spacex diventa un buco nero un pozzo nero un bagno di sangue non riesce assolutamente a fare nulla di ciò che si era prefissata e non bastasse mentre il falcon one non riesce a decollare letteralmente Elon Musk si mette in testa di realizzare il falcon five cioè la stessa versione ma con cinque motori e inizia a far progettare il falcon five mentre non è riuscito a far decollare neanche la versione più semplice ok ecco tra l'altro per i nerd si chiamano falcon in onore del millennium falcon ok esattamente per quello sì in onore di guerre stellari quello che succede è che queste aziende hanno entrambe problemi perché se spacex ha i problemi con i razzi tesla ha i problemi con le batterie che si scopre erano essere pericolose le batterie al litio ok e ha problemi con i conti economici perché l'amministratore delegato che c'era in quel momento prima che Elon Musk si intestasse diciamo anche quella carica riesce a far esplodere i costi di tesla a livelli semplicemente ridicole ok a livelli ridicoli perché una macchina che deve essere venduta a 100.000 a 100.000 dollari a tesla costava 120 130 140.000 dollari questo perché la gestione era assolutamente inadeguata all'azienda ok il problema è che le macchine anche lì è un'industria incredibilmente complessa dove tutti lo prendono per il culo soprattutto dalle grosse industrie dell'automotive americane e lo trattano tutti come un cretino in realtà tesla è un esperimento incredibile perché tratta l'automobile come se fosse un'applicazione e quindi un sito web o qualsiasi altra cosa in altri termini una qualsiasi start up della silicon valley ok e quindi non non va a detroit a sviluppare l'automobile la tesla roadster il primo modello ma rimane in silicon valley rimane in california tra la california e il texas oggi ok e questo è tuttora così di fatto a tutti contro nasce tesla in realtà come modifica della lotus impiantando un motore elettrico tentando di impiantare un motore elettrico sulla lotus ok ma di fatto poi presto ben presto sotto spinta di musk il tentativo è quello di realizzare una carrozzeria propria un'automobile di fatto propria ok e quindi e quindi che cosa succede succede che queste aziende tirano a campare con il musk che ci mette tutti i suoi soldi e che riesce ad attrarre anche degli investitori che ci mettono anche parecchie centinaia di milioni ma senza vedere risultati diciamo neanche con il cannocchiale e tutto questo però sta in piedi precariamente ma sta in piedi fino al 2008 perché poi nel 2008 succede il finimondo in realtà succede che il mercato azionario crolla l'economia entra in recessione e non si riesce e non si riesce a vendere macchine figuriamoci le tesla che manco ci sono e che neanche sono autorizzati a vendere perché devono trovare queste scamotage siccome le tesla le vogliono tutti tutti i miliardari vogliono le tesla cioè hanno costruito una roba che la gente sbava per avere ma non gliela possono neanche vendere perché non possono mettere in commercio automobili anche lì la legislazione non è così semplice di fatto devono trovare inizialmente un scamotage creano un club un'associazione il cui costo della tessera è di centomila dollari e in cambio l'associazione a tutti i soci il regalo da una tesla roadster quindi non comprano la macchina ma comprano il fatto di essere soci di un'associazione che ai propri soci regala un'automobile è un'escamotage perché non la possono vendere in tutto questo il mercato azionario crolla e di fatto le aziende si trovano praticamente in banca rotta e questo sia spacex sia tesla perché da una parte da una parte si ha un'azienda che non riesce a far decollare un razzo ok e non riesce a portare in orbita praticamente nulla ok e dall'altra c'è un'azienda che non può vendere che non può vendere automobili automobili che tanti vorrebbero che sbavano per avere ma che non si riescono a realizzare perché ci sono mille problemi anche tecnici con la trasmissione inizialmente reputizzate in un modo ma non riescono a fare quello che hanno in mente insomma per farla breve alla fine del 2008 Elon Musk che nel frattempo aveva divorziato dalla prima moglie e aveva già avuto fondamentalmente un po' di mazzate si ritrova con le due aziende che rischiano di fallire entrambe sono entrambe sull'astrico sull'orlo della bancarotta e lui non sa cosa fare perché i pochi soldi che ha se li mette in una l'altra muore di certo se li divide per entrambe muoiono probabilmente entrambe le aziende ecco e quindi non riesce a capire che cosa fare lui si trova letteralmente in difficoltà economica nel senso che non ha i soldi neanche per le sue incombenze quotidiane ok mette tutto quello che ha nelle aziende e di fatto si trova in una situazione molto critica alla fine quello che farà è mettere tutti i soldi che ha in spacex e tesla sembra quasi destinata al fallimento non che spacex in realtà sia messa meglio ma riesce in qualche modo con una carambola di incredibili vicissitudini a convincere gli investitori a mettere altre decine di migliaia di decine di milioni di dollari in tesla e deve anche un po' truffare per riuscire a farlo per alcuni vincoli tecnici che non vi sto a spiegare e quindi il 23 di dicembre a due giorni dal fallimento di tesla la riesce a salvare di fatto riesce a salvarla così come riesce a salvare spacex perché riesce ad ottenere una commessa dalla nasa per mandare satelliti e soprattutto per fare vori verso la stazione spaziale internazionale siamo alla fine del 2008 maschedato per spacciato da tutti i giornali e riesce a salvare le sue aziende praticamente all'ultimo secondo nell'ultima manciata di ore che ha a disposizione ok e questo è già un obiettivo incredibile la nasa mette sul piatto un miliardo e 600 milioni di dollari per comprare 12 lanci verso la stazione spaziale internazionale non che la nasa si veda particolarmente favorevolmente spacex anzi le due aziende cioè l'azienda e l'ente statale sono abbastanza in rotta di collisione figuratevi questo figuratevi che la nasa dispregiativamente chiama spacex i tizi nel garage per dire gli scappati di casa per vendicarsi Elon Musk e spacex realizzano un computer che serve per comunicazioni radio però la spazione stazione internazionale è quella che poi sarà la dragon quindi la capsula l'astronave di spacex quella che ospita gli astronauti e questo computer è il primo apparecchio di questo tipo che riesce a passare test della nasa al primo colpo ok lo chiamano cucù cioè spacex Elon Musk lo fa chiamare cucù perché ride tantissimo e si diverte all'idea di obbligare tutti i manager ai vertici della nasa durante le loro riunioni a ripetere mille volte la parola cucù ok quindi il computer lo chiamano cucù perché quelli sono obbligati a comprarlo e ad utilizzarlo perché di fatto è l'unica cosa che è una disposizione che funziona e lui si sfoga così prendendoli per il culo e obbligandoli diciamo a pronunciare cucù ogni tre per due nelle riunioni e la cosa lo fa molto ridere alla fine ovviamente anche la questione dei lanci spaziali anzi soprattutto la questione dei lanci spaziali è assolutamente complessa da penetrare ovviamente lì si ci sono grossi interessi anche politici elettorali nel senso che alcuni senatori vengono eletti con i voti dei lavoratori delle aziende che sono nell'indotto della NASA quindi dare una commessa a SpaceX al posto che alla NASA diventa problematico ma la cosa è interessante c'è una bella serie un docu serie su Netflix che racconta la storia di SpaceX che vi consiglio di guardare è che questa azienda alla fine ce la farà al quarto tentativo a lanciare il Falcon One e sarà l'ultimo tentativo possibile perché a quel punto l'azienda era in bancarotta ok aveva già tre tentativi andati male tutti gli occhi del mondo puntati addosso non aveva soldi infiniti come quelli garantiti da uno stato se sei la NASA puoi permetterti di fare molti errori ma se sei un privato devi avere i soldi per finanziarti gli errori e quello che alla fine succede è che al quarto tentativo riescono a mandare in orbita il Falcon One dopo milioni di problemi che avevano avuti ad oggi possiamo dire che SpaceX ha fatto un qualcosa di assolutamente incredibile dopo il Falcon One ci sarà il Falcon Five il Falcon Nine con nove motori e il Falcon Heavy che è la versione più pesante cioè con praticamente è un Falcon 9 per tre con 27 motori porta un carico pagante di 50 tonnellate in orbita ok e oggi oggi pochi giorni fa il 20 di aprile abbiamo assistito alla sperimentazione dello Starship ok cioè la vettura al momento più grande che abbia costruito SpaceX pensate un razzo lungo 120 metri 120 metri ok questo è quello che l'altro giorno è esploso o meglio è stato fatto esplodere perché diciamo si era rovesciato non un fallimento ma semplicemente un test ok anzi quell'aereo quel razzo lo Starship dell'altro giorno ha fatto molto di più di quello che era stato previsto e di quello che si era preventivato quello che c'è da dire è che oggi SpaceX possiamo dirlo ha fatto qualcosa di incredibile è riuscita per esempio a convincere la NASA che ormai l'elettronica di consumo è così tanto affidabile da poter soppiantare l'elettronica specialistica per l'industria aerospaziale SpaceX oggi utilizza apparecchiature di derivazione consumer ok tant'è che loro hanno un sistema radio per le comunicazioni che gli costa 5.000 dollari in confronto ai sistemi radio che usano la NASA o che si usa diciamo se si utilizzasse la tecnologia secondo gli standard dell'industria aerospaziale che costa 100.000 dollari cioè da 5.000 a 100.000 le differenze di costi sono queste e la cosa incredibile è che l'obiettivo di SpaceX è stato fondamentalmente raggiunto cioè l'obiettivo era riuscire a far volare in orbita un carico pagante di mi sembra 150 kg ad un prezzo di 6 milioni di dollari se non ricordo male che sono cifre imparagonabili a quelli della NASA questo fa sì che altri privati possano nascere realizzare cose innovative pensate per esempio a Starlink che però è sempre di Musk cioè anche Starlink il progetto di connettività internet satellitare è sempre Elon Musk ma è possibile grazie al bassissimo costo per mettere in orbita satelliti quindi non ci potrebbe essere Starlink senza SpaceX ok e questa è la cosa veramente assurdamente incredibile che va capito quando io oggi mi sveglio e leggo sul Guardian un articolo che recita ogni volta che un razzo di SpaceX esplode io mi chiedo se dovremmo tassare i ricchi di più perché questi miliardari giocano con i loro razzetti mentre con i loro soldi se li spendessimo noi Stato anziché lasciarli a questi poveracci ci faremo un sacco di cose li daremo agli ospedali e alle scuole ecco mi viene voglia di pensare che questa gente vada insomma in qualche modo educata poi mi ricordo che in realtà ognuno può dire quello che vuole ed è giusto così però sono inorridito dal fatto che ci siano bipedi come me che si svegliano un giorno e davvero pensano di poter scrivere e scrivono che i ricchi hanno troppi soldi e quindi li spendono nei loro nei loro giocattoli giocattoli in realtà che sì quelli muovono il mondo ora la storia di spacex in realtà è ancora da scrivere l'obiettivo ve lo ricordo è sempre stato e sarà sempre quello di andare su marte e la storia di tesla in realtà pure è ancora da scrivere perché entrambe queste aziende solo sono all'inizio così come la storia di tutti noi è da scrivere però vi devo dire la verità ecco leggendo alcuni commenti che ho letto in questa live mi è venuta una tale tristezza che spero di potermi candidare un giorno per essere uno dei primi a lasciare la terra lo farò volentieri so che saremo entrambi soddisfatti di questo obiettivo e io spero di non avere più a che fare con gli umani se non effettivamente forse solo le forme di vita che troverò su marte e sarò felice di morire lì lontano da tutti quanti voi è proprio una cosa che mi auguro ecco questa era la storia molto condensata di Elon Musk giusto per spiegare perché le cose che leggete insomma hanno l'eco che vedete è giusto per farvi capire da che cosa arriva tutto questo da che cosa nasce cosa ci sta dietro è molto poco potremmo raccontare molto di più soprattutto sulle singole aziende ma sicuramente lo faremo un'altra volta spero che la storia vi sia piaciuta e spero insomma di avervi raccontato qualcosa che prima non conoscevate grazie a tutti per avermi ascoltato e ci vediamo alla prossima puntata del bugiardino grazie grazie a tutti